Assessore Pizzimenti, primo intervento di housing sociale a Trieste, la Regione ci ha messo un investimento di 8 milioni di euro che lei ha definito un investimento moltiplicatore. Sì, in effetti è vero, con 8 milioni di euro ha generato poi quasi 80 milioni di euro per questo intervento. Questo è un modello di finanziamento molto interessante, secondo me anche da perseguire, perché con una certa cifra anche i privati riescono a intervenire e quindi dare un risultato di questo tipo. La Regione continuerà a finanziare interventi come questo? Penso di sì, è chiaro che bisogna capire se l'intervento poi è reddittivo sia per noi ma anche e soprattutto per i privati. Certamente in Regione ci sono altri luoghi, altri posti in cui sono interessanti i siti e quindi vedremo che cifre girano e poi di conseguenza girano. Una possibilità anche per il recupero di spazi dismessi? Ecco, questo è l'obiettivo finale, almeno per quanto riguarda il pubblico, cioè quello di ottenere diversi obiettivi appunto. Quello di recuperare un'area poi dismessa, abbandonata. Due, di dare appartamenti a chi non riesce a entrare nelle case popolari ma neanche entrare nel mercato. Terzo, dare la possibilità anche ai privati di intervenire e quindi essere reddittivi sul mercato. Grazie.